Ha perso il controllo della propria moto, una Honda Hornet 600, mentre dal Casentino si stava dirigendo verso Arezzo, uno schianto violento all'altezza di Giovi. Così un quarantenne, originario di Subbiano, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi. A dare l'allarme sono stati altri motociclisti, provenienti dalla riviera Romagnola e casualmente su quel tratto di SR71. Sul posto per i soccorsi si sono recati sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo. Grazie a tutti.